Sai perché ai tuoi bambini piace collezionare le figurine Amici Cucciolotti? Perché contribuiscono a salvare gli animali. Sono un'alternativa intelligente a video e tv e permettono ai bambini di giocare per mesi, spendendo poco, imparando tante cose meravigliose, incontrandosi con gli amici e anche con te, se vuoi provare l'emozione di tornare bambino e divertirti con loro. Le figurine Amici Cucciolotti sono solo in edicola. Pizzardi Editore Pizzardi Editore